eccoci qua per vedere come riscattare una skin gratuita da Epic solo da PC, quindi se siete da console e avete un PC vecchio magari provate a installargli Fortnite e fate sto passaggio e volevi allora, poi Doggo ci spiegherà va bene, è anche un PC cagone eh sì, tanto dovete solo avviare Fortnite esatto, dovete solo avviare Fortnite andate qua, bandole o fette speciali tipo quelle di Gigi o fette come quelle di Gigi pacchetto incarichi assassino vulcanico ci clicchiamo ecco qua, 0 euro ci dà quindi spiegaci cosa ci dà allora, questo pacchetto all'inizio non dà nulla dopo che l'avrai acquistato cioè dopo che hai riscattato tutto ti darà delle missioni dove poi potrai ricevere le ricompense sono solo 3 missioni però c'è una in particolare che ci vuole un po' di tempo è un po' lunghetta per esempio sì, perché questa missione ti chiede di sopravvivere a 50 fasi della tempesta che dà la mimetica poi va bene, ma tanto dopo cioè, pian piano uno le fa giocando sì, sì, sì perché poi c'è una poi c'è un'altra missione che devi fare danni non mi ricordo 2000 e qualcosa è un'altra missione che devi incendiare strutture una dai piccone una lamimetica uno lozano e dopo che avrai fatto tutte e tre missioni ti darò la skin la skin purtroppo facendo esami oggetti non ce li fa neanche vedere io volevo farvi vedere la skin ma non ce la fa vedere quindi andate qua acquista ciao Andre stiamo registrando un video un secondo ah ok ma stai qua tranquillo tanto lo facciamo così naturale anche se entra qualcuno non è un problema ecco qua in possesso quindi se adesso andiamo no effetto all'ordine ma sei già in possesso infatti allora pacchetto assassino vulcanico incarichi eccetera eccetera quindi adesso se andiamo negli incarichi li vediamo nuovi incarichi assassino vulcanico incendi a strutture centro strutture sopravvivi alle fasi della tempesta 50 vabbè infliggi danni bene o male a parte incendi a strutture che ti devi ricordare di farlo le altre due le fai normalmente giocando ci vuole un po' di tempo magari 50 fasi bene per questo video è tutto un saluto da tutti anche da Andre che si sono infilati nella chat così all'improvviso ciao 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 per questo video è tutto ragazzi iscrivetevi al canale e buon divertimento ciao Grazie a tutti.